Il duca e la duchessa del Sussex hanno cresciuto la loro giovane famiglia in California dal 2020, tuttavia l'ex maggiordomo reale Grant Herrod ha affermato che un ritorno nel Regno Unito è una possibilità. Il principe Ferri e Meghan Markle sono stati suggeriti per un possibile ritorno nel Regno Unito, secondo l'ex maggiordomo reale Grant Herrod, che una volta lavorava per Re Carlo. Nonostante le loro continue difficoltà con la famiglia reale, il signor Herrod crede che almeno per il duca l'acquisto di una proprietà a casa sia una possibilità, nel caso volesse visitare più spesso. Da quando si sono dimessi da reali che lavorano, Ferri e Meghan sono tornati nel Regno Unito solo una manciata di volte, più di recente, erano entrambi presenti al funerale della regina Elisabetta, nel settembre dello scorso anno. Ferri ha fatto un brevissimo viaggio da solo per l'incoronazione di suo padre all'inizio di questo mese, ma è rimasto nel Regno Unito per appena 24 ore, mentre tornava con la sua famiglia per il quarto compleanno del principe Archie. Grant Herrod, che ha lavorato come maggiordomo per Charles dal 2004 al 2011, quando era ancora principe di Galles, afferma che non è troppo tardi per i Sussex, per fare ritorno nel Regno Unito. Ha detto al New York Post, non direi mai mai, è sempre possibile che un giorno voglia tornare a casa, è possibile che compri, una proprietà, qui se volesse venire, altro, e Meghan non volevo venire. Meghan non ha davvero una famiglia qui in quanto tale, tutta la sua famiglia è negli Stati Uniti, ed è lì che Ferri ha deciso di voler mettere su casa. Ora un esperto di etichetta ed emittente televisiva, Herrod ha aggiunto che il Duca di Sussex, avrà sempre un'associazione con il Regno Unito e non vorrà mai interromperlo del tutto. Parlando a nome di Ozpedia, ha aggiunto, vorrà sempre tenere le dita in quella torta, per così dire.